Ciao e benvenuti a Crochet Romance o bentornati se già mi conoscete. Io sono Lisa e oggi andremo a realizzare il maioncino che avrete visto nelle foto di anteprima. In questo momento ho realizzato solo la parte davanti e il dietro che verrà lavorato nello stesso modo lo faremo insieme così vi faccio vedere come si realizza e ovviamente poi completeremo insieme tutto il maioncino. Per questo progetto utilizzo il filato Ice Yarns che ho preso dalla mia amica Francesca di Italy Artisan e vi lascio come sempre i link utili nel box informazioni sotto a questo video quindi potrete vedere il link per poter usare lo stesso filato che ho utilizzato io per questo maioncino. Di preciso il filato si chiama Moher Magic e qua è indicato che si lavora con un 3-4 mm. Io invece utilizzo un 4,5 mm per questo progetto perché ho la mano molto stretta. Se voi avete la mano larga utilizzate il 4 mm altrimenti va bene il 4,5. E qua dicono che 100 grammi fanno 550 metri ed è un filato morbidissimo di misto Moher lana e acrilico premium. Come vedete ci sono qua le sfumature che vanno dal bianco al marroncino chiaro al verde e al marrone scuro però se volete c'è anche una versione che si chiama Moher Magic Glitz che ha anche l'inserto di lame. Nel mio caso io sto facendo una taglia SM che a dire il vero è più M che S però vi dico approssimativamente le misure che sto facendo io per questo lato qua ho 50 cm e per l'altezza ho 55 però magari allungherò ancora di due centimetri devo decidere una volta indossato il maglioncino. Ok quindi 50 x 55 per una SM. La lavorazione parte da qui quindi partiremo praticamente dal sopra e andiamo a lavorare in altezza fino a fare poi alla fine il sotto. Poi il punto è un multiplo da 10 più 4 quindi nel mio caso io ho avviato 84 maglie. Prima di fare questo campione da 84 maglie avevo fatto una prova con 94 maglie quindi vi posso dire tranquillamente che con 94 maglie vi verrà una taglia ML tranquillamente quindi se vi serve una taglia più grande aumentate il numero di catenelle iniziali che ripeto per una L 94 per una M 84 come ho fatto io per una XS magari fate solo 74 maglie e quindi sono sempre un multiplo da 10 più 4. Passiamo ora alla spiegazione del punto. Iniziamo quindi a montare il numero di catenelle necessario per la nostra taglia. Nel mio caso devo montare un multiplo di 10 più 4 quindi farò 84 catenelle. Una, due, tre, quattro fino a 84. Una volta che avete montato il vostro numero di catenelle entrate nella quarta catenelle dall'uncinetto e lavorate una maglia alta. Quindi uno, due, tre, qua è la quarta e lavoro una maglia alta. E adesso dobbiamo lavorare una maglia alta in ogni catenella fino alla fine della riga eccomi a fine riga adesso facciamo subito la seconda riga allora facciamo tre catenelle che sostituiscono una maglia alta voltiamo il lavoro e adesso facciamo la lavorazione iniziamo praticamente la lavorazione del punto anche se questa seconda riga ancora non farà parte delle ripetizioni però creiamo praticamente la base del nostro punto freccia allora facciamo delle maglie alte però non lavoriamo sopra le maglie alte della riga precedente come siamo abituati a fare ma lavoriamo negli spazi fra una maglia alta e l'altra quindi adesso abbiamo fatto tre catenelle adesso troviamo qua uno spazio fra la prima e la seconda maglia però questo spazio non lo lavoriamo ma entriamo nello spazio successivo questo è perché dobbiamo fare adesso questa riga di bordo quindi sono entrata nello spazio successivo e adesso facciamo altre due maglie alte sono entrata negli prossimi due spazi una e due quindi sono entrata negli spazi fra le maglie il primo spazio l'ho saltato però poi negli successivi spazi ho lavorato adesso dobbiamo fare una maglia alta da dietro in rilievo e anche qua questa volta ovviamente non lavoriamo fra gli spazi perché è impossibile lavorare una maglia alta in rilievo in uno spazio ma dobbiamo avvolgerci attorno alla maglia alta ora siccome qui è l'ultimo spazio che abbiamo lavorato e qua abbiamo una maglia alta successivamente questa la saltiamo ma entriamo in quella ancora successiva e lavoriamo la nostra maglia alta in rilievo da dietro poi facciamo una catenella e poi facciamo una maglia alta in rilievo da dietro nella maglia alta successiva direttamente quindi qua è l'ultima maglia alta sulla quale abbiamo lavorato la nostra maglia alta in rilievo da dietro entriamo in quella successiva e lavoriamo un'altra maglia alta in rilievo da dietro ora torniamo a lavorare fra gli spazi però non lavoriamo direttamente in questo spazio che viene dopo la maglia alta in rilievo da dietro ma in quello successivo ecco e facciamo sette maglie alte una due tre quattro cinque sei e sette quindi come vedete ho lavorato fra gli spazi e ora si ripete quindi maglia alta in rilievo da dietro qui è l'ultimo spazio che abbiamo lavorato non lavoriamo immediatamente qui la nostra maglia alta in rilievo ma in quella successiva una maglia alta in rilievo da dietro una catenella e poi una maglia alta in rilievo da dietro nella maglia alta successiva quindi poi ripetiamo sette maglie alte normali fra gli spazi però anche qua non entriamo immediatamente in questo spazio dove abbiamo lavorato la maglia alta in rilievo da dietro ma in quello successivo eccolo qua e facciamo sette maglie alte una due tre quattro cinque sei e sette quindi questo motivo adesso va ripetuto per tutta la riga ed eccomi a fine riga mi sono accorta durante la lavorazione che in un punto ho fatto un aumento nella prima riga ho fatto due maglie alte in una catenella me ne sono accorta ora quindi io adesso ho un piccolo errore alla fine di questa riga però se voi non avete fatto l'errore di aver fatto una maglia alta in più nella prima riga ovviamente non avete il problema che ho adesso io quindi vi faccio vedere comunque perché non è grave è rimediabile e non si noterà alla fine ho fatto le mie due maglie alte in rilievo da dietro separate da una catenella e poi ho fatto tre maglie alte fra gli spazi e adesso in teoria qua non ci sarebbe questa maglia alta in più ma avrei solo una maglia alta libera e le tre catenelle iniziali siccome ho fatto l'errore mi risultano due però a voi vi risulterà di avere solo questo quindi copro con il dito questa maglia alta in modo da facilitarvi un po' la comprensione quindi adesso siamo a fine riga e non lavoriamo attorno alla maglia alta e le tre catenelle ma entriamo direttamente nella terza catenella e lavoriamo semplicemente una maglia alta e così come risultato avremo alla fine della riga quattro maglie alte e all'inizio della riga avevamo anche qui quattro maglie alte perché le tre maglie alte più le tre catenelle iniziali e così abbiamo concluso la seconda riga adesso facciamo la terza riga e dalla terza riga in poi inizia la nostra ripetizione del motivo quindi queste due righe erano solo per creare la base e non verranno più ripetuti allo stesso esatto modo nella lavorazione iniziamo quindi la riga numero 3 facciamo 3 catenelle voltiamo il lavoro e adesso dobbiamo fare 3 maglie alte fra gli spazi questa volta entriamo direttamente nello spazio dopo la maglia alta dove abbiamo lavorato sopra le nostre 3 catenelle quindi entrate direttamente nel primo spazio e lavorate una maglia alta e poi la seconda nel prossimo spazio la terza nello spazio successivo quindi avremo qua quattro maglie alte perché le 3 catenelle iniziali sostituiscono una maglia alta più le 3 maglie alte adesso lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti sopra la maglia alta in rilievo e poi ci troviamo con la catenella sopra la catenella lavoriamo una maglia alta una catenella una maglia alta quindi una maglia alta una catenella una maglia alta ora abbiamo la maglia alta in rilievo e lavoriamo una maglia alta in rilievo da davanti sopra questa maglia e adesso ci troviamo le maglie alte che dividono questi gruppi di maglie alte in rilievo e dobbiamo fare 6 maglie alte in questi spazi quindi non lavoriamo direttamente nello spazio dopo la maglia alta in rilievo ma entriamo in quello successivo e dobbiamo fare in totale 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e adesso inizia a ripetersi il motivo quindi ci ritroviamo qua ovviamente c'è rimasto una maglia alta libera non la lavoriamo ma entriamo nella maglia alta in rilievo davanti e lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti poi abbiamo di nuovo la catenella e sopra la catenella lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta poi abbiamo la maglia alta in rilievo e lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti e adesso ripetiamo 6 maglie alte fra gli spazi non entriamo direttamente qui dopo la maglia alta in rilievo ma nello spazio dopo la prima maglia alta normale e facciamo 6 maglie alte e ripetiamo eccomi che sono già arrivata alla fine della riga come vedete qua ho fatto il gruppo di maglie alte in rilievo davanti e ho già fatto 2 maglie alte e mi trovo a fine riga adesso siccome all'inizio della riga abbiamo avuto praticamente 4 maglie alte anche alla fine della riga dobbiamo ottenere 4 maglie alte quindi lavoriamo adesso una maglia alta nello spazio che c'è fra l'ultima maglia alta e le 3 catenelle quindi entriamo nello spazio e lavoriamo una maglia alta così ne abbiamo 3 dopo il gruppo di maglie alte in rilievo e poi lavoriamo ovviamente l'ultima maglia alta sopra la terza catenella in questo modo abbiamo anche qua 4 maglie alte e possiamo iniziare la prossima riga facciamo quindi ora la riga numero 4 facciamo 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta voltiamo il lavoro e adesso lavoriamo una maglia alta entrando nel secondo spazio quindi non entrate direttamente in questo spazio facciamo nel secondo una maglia alta poi facciamo una terza maglia alta nel prossimo spazio quindi 3 catenelle fanno una maglia alta più altre due adesso lavoriamo una maglia alta in rilievo da dietro sopra la maglia alta in rilievo della riga precedente qui quindi una maglia alta in rilievo da dietro e poi lavoriamo dentro il gruppo della catenella qui abbiamo le maglie alte divise da una catenella e andiamo a lavorare attorno alla catenella e lavoriamo due maglie alte una catenella e due maglie alte attorno a questo gruppo poi lavoriamo una maglia alta in rilievo da dietro sopra la maglia alta in rilievo e ricominciamo a fare il gruppo di maglia alte fra gli spazi anche qua dobbiamo ovviamente non lavorare direttamente nello spazio fra la maglia alta in rilievo e la maglia alta ma qui in questo spazio quindi lavoriamo una maglia alta e come avrete notato stiamo andando a diminuire le maglie alte in ogni giro ce n'è una in meno quindi nel primo giro avevamo 7 maglie alte cioè nella riga numero 2 avevamo 7 maglie alte nella riga numero 3 ne avevamo 6 nella riga numero 4 ne avremo 5 quindi qua abbiamo fatto una entro nel prossimo spazio 2 3 4 e 5 e ora si ripete ovviamente il motivo quindi sopra la maglia alta in rilievo lavoriamo una maglia alta in rilievo da dietro nello spazio di una catenella lavoriamo due maglie alte una catenella e due maglie alte poi sopra la maglia alta in rilievo successiva lavoriamo una maglia alta in rilievo da dietro e ripetiamo il motivo di maglie alte alla fine della riga ovviamente dobbiamo avere di nuovo 3 maglie alte come anche all'inizio della riga quindi in questo caso andiamo a lavorare l'ultima maglia alta direttamente nella terza catenella e non lavoriamo nello spazio fra l'ultima maglia alta e le catenelle quindi direttamente nella terza catenella lavoriamo l'ultima maglia alta e così abbiamo 3 maglie alte poi questo quindi era la quarta riga facciamo la quinta riga 3 catenelle voltiamo il lavoro e anche nella riga numero 5 vogliamo ottenere 3 maglie alte all'inizio della riga quindi la prima maglia alta è costituita dalle 3 catenelle la seconda la lavoriamo direttamente nello spazio dopo la prima maglia alta quindi qui e la terza nello spazio successivo così abbiamo 3 maglie alte 2 maglie alte più le 3 catenelle poi lavoriamo una maglia alta in rilievo davanti sopra la maglia alta in rilievo e nella catenella che divide i due gruppi di 2 maglie alte lavoriamo 2 maglie alte, 1 catenella, 2 maglie alte ecco poi dobbiamo lavorare una maglia alta in rilievo davanti sopra la maglia alta in rilievo e facciamo di nuovo il gruppo di maglie alte che divide questi gruppi di maglie alte in rilievo quindi nella riga precedente avevamo 5 maglie alte in questa ne dobbiamo ottenere 4 perché andiamo sempre a diminuire di un numero quindi ormai l'avrete capito però ripeto non lavoriamo direttamente nello spazio dopo la maglia alta in rilievo ma in quello successivo una maglia alta e poi fino a 4 2 3 e 4 poi lavoriamo nuovamente una maglia alta in rilievo davanti sopra la maglia alta in rilievo e nello spazio di una catenella lavoriamo 2 maglie alte una catenella 2 maglie alte completiamo ovviamente con una maglia alta in rilievo sopra la maglia alta in rilievo e poi si ripete fino alla fine della riga quindi adesso dovrete fare 4 maglie alte nello spazio fra i due gruppi alla fine della riga dobbiamo ottenere di nuovo 3 maglie alte come abbiamo fatto all'inizio della riga quindi facciamo una maglia alta nello spazio e poi una maglia alta nello spazio che divide l'ultima maglia alta e le 3 catenelle e l'ultima maglia alta la lavoriamo sopra la terza catenella e così abbiamo completato anche la riga numero 5 andiamo ora a fare la riga numero 6 3 catenelle voltiamo il lavoro e lavoriamo adesso una maglia alta non in questo spazio immediatamente dopo le 3 catenelle ma nel prossimo spazio quindi in questo caso abbiamo 2 maglie alte di bordo poi lavoriamo una maglia alta in rilievo da dietro sopra la maglia alta in rilievo dietro e nello spazio di una catenella che divide le 2 maglie alte e le 2 maglie alte lavoriamo 3 maglie alte una, due e tre una catenella e 3 maglie alte tutte attorno alla nostra catenella successivamente dobbiamo fare una maglia alta in rilievo da dietro sopra la maglia alta in rilievo della riga precedente e ritorniamo al nostro spazio di maglie alte e quindi nella riga precedente abbiamo fatto 4 maglie alte in questa ne dobbiamo fare solo 3 non lavoriamo nello spazio immediatamente dopo la maglia alta in rilievo ma nel prossimo spazio quindi una maglia alta, la seconda maglia alta e la terza maglia alta successivamente facciamo di nuovo una maglia alta in rilievo da dietro sopra la maglia alta in rilievo in rilievo e nello spazio di una catenella dobbiamo ripetere 3 maglie alte una catenella una catenella una catenella una catenella e 3 maglie alte come vedete il motivo è abbastanza semplice ripetiamo fino alla fine della riga e poi finiamo ovviamente la riga con 2 maglie alte come abbiamo iniziato quindi anche in questo caso ho fatto una maglia alta nell'ultimo spazio disponibile poi c'è ovviamente lo spazio che ci sarebbe fra l'ultima maglia alta e le 3 catenelle però siccome devo fare solo 2 entro direttamente nella terza catenella per fare la seconda maglia alta e la riga numero 6 è terminata facciamo adesso la riga numero 7 3 catenelle 1 2 3 voltiamo il lavoro e dobbiamo fare di nuovo 2 maglie alte per il bordo quindi le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta la seconda la andiamo a lavorare subito dietro nello spazio quindi qua abbiamo le 3 catenelle entriamo subito in questo spazio e lavoriamo una maglia alta adesso facciamo una maglia alta in rilievo davanti sulla maglia alta in rilievo e nello spazio di una catenella andiamo a lavorare 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte quindi 1 2 1 3 una catenella e 3 maglie alte 1 2 e 3 poi facciamo una maglia alta in rilievo davanti sopra la maglia alta in rilievo e dobbiamo lavorare nello spazio delle maglie alte nella riga precedente abbiamo fatto 3 maglie alte quindi in questa dobbiamo fare solo 2 come sempre non entriamo direttamente nello spazio dopo la maglia alta in rilievo ma in quello successivo e facciamo una maglia alta e poi la seconda maglia alta e subito ripetiamo il motivo una maglia alta in rilievo davanti sopra la maglia alta in rilievo 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte sopra la catenella una catenella altre 3 maglie alte sempre sempre sopra la catenella e poi una maglia alta in rilievo davanti sopra la maglia alta in rilievo e poi di nuovo le 2 maglie alte negli spazi e ripetiamo questo fino alla fine della riga alla fine della riga dobbiamo creare di nuovo 2 maglie alte come abbiamo fatto all'inizio della riga quindi abbiamo qua solo lo spazio disponibile fra l'ultima maglia alta e le 3 catenelle quindi entriamo nello spazio fra quest'ultima maglia alta e le 3 catenelle lavoriamo una maglia alta e poi facciamo l'ultima maglia alta sopra la terza catenella e così abbiamo concluso il giro numero 7 facciamo adesso la riga numero 8 1, 2, 3 catenelle voltiamo il lavoro e queste 3 catenelle sostituiscono già una maglia alta e questa volta lavoriamo direttamente la maglia alta in rilievo da dietro sopra la maglia alta in rilievo ecco fatto e poi lavoriamo nello spazio di una catenella e facciamo 4 maglie alte 1, 2, 3, 4, una catenella e altre 4 maglie alte poi lavoriamo una maglia alta in rilievo da dietro sopra la maglia alta in rilievo e nel giro precedente qua abbiamo fatto 2 maglie alte e quindi questa volta dobbiamo fare solo una maglia alta proprio nello spazio fra queste 2 maglie alte subito dopo viene di nuovo la maglia alta in rilievo da dietro sopra la maglia alta in rilievo e poi ripetiamo di nuovo tutto il lavoro come all'inizio riga dobbiamo anche qua chiudere solo con una maglia alta e quindi entriamo direttamente nella terza catenella e lavoriamo una maglia alta facciamo adesso la riga numero 9 3 catenelle 1, 2, 3 che sostituiscono una maglia alta voltiamo il lavoro e lavoriamo direttamente la maglia alta in rilievo davanti qui sopra la maglia alta in rilievo e poi nello spazio di una catenella facciamo 4 maglie alte una catenella quattro maglie alte 1, 2, 3, 4 una catenella e poi di nuovo 1, 2, 3, 4 e poi dobbiamo fare una maglia alta in rilievo davanti sopra la maglia alta in rilievo in questo caso non dobbiamo più fare maglie alte fra le maglie alte in rilievo perché l'ultimo giro abbiamo fatto una sola maglia quindi dopo uno viene zero quindi nessuna maglia alta fra le maglie alte in rilievo quindi ho appena fatto una maglia alta in rilievo davanti sopra la maglia alta in rilievo adesso entro direttamente nella prossima maglia alta in rilievo e lavoro una maglia alta in rilievo davanti così e poi passo di nuovo a lavorare nella catenella quindi quattro maglie alte 2, 3, 4 una catenella e quattro maglie alte 1, 2, 3, 4 e poi di nuovo nelle maglie alte in rilievo una maglia alta in rilievo davanti entro nella prossima maglia alta in rilievo e faccio una maglia alta in rilievo davanti e poi continuo a lavorare nello spazio di catenelle e ripeto questo fino alla fine della riga terminiamo anche questa riga ovviamente con una maglia alta nella terza catenella perché all'inizio della riga abbiamo avuto una maglia alta quindi dobbiamo chiudere con una maglia alta adesso facciamo la decima riga quindi 3 catenelle voltiamo il lavoro e questa riga sarà l'ultima riga del nostro motivo che poi andremo a ripetere quindi in questa riga dovete prestare particolare attenzione a dove lavorare le maglie alte quindi la prima maglia alta è costituita dalle 3 catenelle la seconda la lavoriamo nello spazio dopo la maglia alta in rilievo qui quindi fate una maglia alta e poi lavorate altre 2 maglie alte sopra i prossimi due spazi quindi una maglia alta qui e una maglia alta qui quindi ho lavorato praticamente all'interno del gruppo di 4 maglie alte adesso sono rimaste ancora 2 maglie alte libere facciamo una maglia alta in rilievo da dietro nell'ultima maglia alta quella che precede la catenella quindi una maglia alta in rilievo da dietro nello spazio di catenelle questa volta non lavoriamo quindi dobbiamo fare semplicemente una catenella e poi lavoriamo un'altra maglia alta da dietro entrando nella maglia alta dopo la catenella qui in questo modo e così abbiamo già fatto il bordo e il primo gruppo di maglie alte quindi nel bordo abbiamo 4 maglie alte poi viene il gruppo di maglie alte in rilievo e adesso dobbiamo fare 7 maglie alte prima di fare di nuovo il gruppo di maglie alte in rilievo quindi metto un po' di zoom così vedete bene dove lavoro allora sopra questa maglia abbiamo lavorato la maglia alta in rilievo adesso la prossima maglia alta non la lavoriamo direttamente in questo spazio dopo la maglia alta in rilievo ma nel prossimo spazio qua e facciamo una maglia alta adesso andiamo a fare una maglia alta in ogni spazio quindi qua abbiamo la seconda la terza la quarta la quinta la sesta e la settima sette maglie alte quindi adesso dobbiamo fare di nuovo le maglie alte in rilievo da dietro e facciamo come prima quindi lavoriamo la maglia alta in rilievo da dietro sopra l'ultima maglia alta prima della catenella poi facciamo una catenella di separazione e lavoriamo la prossima maglia alta in rilievo da dietro sopra la prima maglia alta dopo la catenella e ora dobbiamo ripetere le sette maglie alte quindi non lavoriamo immediatamente dopo la maglia alta in rilievo ma nel prossimo spazio uno due ed eccomi a fine riga come vedete qua ho fatto la maglia alta in rilievo da dietro poi ho fatto già due maglie alte vi voglio fare vedere che ovviamente dobbiamo chiudere con un totale di quattro maglie alte per come abbiamo anche avuto all'inizio della riga quattro maglie alte quindi la terza la lavoro qui nel prossimo spazio e poi l'ultima la facciamo nella terza catenella e così abbiamo concluso anche la riga numero 10 ora dobbiamo ripetere questo motivo partendo dalla terza riga fino alla decima quindi le righe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 vanno ripetute per un totale di 5 volte quindi questa è già la prima volta adesso ricominciate a lavorare la riga numero 3 e farete poi la quarta, quinta eccetera e ripetete il motivo per la seconda volta fino ad avere un totale di 5 volte il motivo ripetuto quindi vi faccio ancora un'osservazione adesso vi sembrerà che il lavoro si arrotola un po' così perché giustamente siamo andati a stringere di qua ma con i giri a venire si allargherà di nuovo e il lavoro diventerà pari al bordo vedrete una piccola ondulazione ma una volta cucito il maione sparirà anche questo quindi non preoccupatevi avete lavorato in modo corretto quello che vi voglio dire ancora per facilitarvi un po' il lavoro nei bordi dovete sempre stare attenti che se siamo partiti con 4 maglie alte all'inizio della riga faremo una seconda riga dove ci sono 4 maglie alte all'inizio della riga dopo di che ci saranno 2 righe con 3 maglie alte inizio riga poi 2 righe con 2 maglie alte e poi 2 righe con 1 maglia alta dopo di che si torna di nuovo ad avere 4 maglie alte a inizio riga quindi questo è un piccolo aiuto per rendervi conto perché è chiaro che l'inizio della riga è un po' più complicato rispetto alla fine di tutto il lavoro anche qua per i punti a ventaglio ci sono sempre 2 righe con lo stesso numero di punti quindi adesso per esempio abbiamo fatto solo il ventaglio da 1 maglia alta una catenella 1 maglia alta praticamente dovete fare 2 righe con questo motivo da 1 maglia alta una catenella 1 maglia alta poi ci saranno 2 righe con 2 maglie alte catenella 2 maglie alte poi 2 con 3 maglie alte catenella 3 maglie alte e infine 2 righe con 4 maglie alte catenella 4 maglie alte e poi si ripete tutto il motivo queste sono delle piccole indicazioni che vi possono aiutare a tenere traccia del lavoro a avere il controllo se state procedendo in modo corretto e poi l'ultima cosa che ovviamente vi ho già spiegato prima all'inizio abbiamo 7 maglie alte che dividono i nostri ventaglietti i gruppi da maglie alte in rilievo poi per ogni riga vanno a diminuire di un numero quindi se qua erano 7, qua saranno 6, 5, 4, 3, 2, 1 e poi 0 questi sono i piccoli calcoli che uno può fare durante la lavorazione e poi vedrete che già dal secondo motivo in poi la lavorazione vi verrà in automatico ok, procedete fino ad avere 5 ripetizioni in totale e poi riprendiamo la registrazione ed eccomi dopo aver completato anche il quinto modulo quindi ho terminato con una riga numero 10 ovviamente e adesso dobbiamo fare una riga di appareggiamento perché vedete qua il lavoro è ondulato e quindi noi dobbiamo ottenere adesso una linea diritta come si fa? vi faccio vedere subito quindi facciamo 4 catenelle 1, 2, 3, 4 voltiamo il lavoro queste 4 catenelle sostituiscono una maglia alta doppia quindi una maglia altissima adesso la lavorazione cambia quindi non lavoriamo più fra gli spazi ma sopra le maglie alte e lavoriamo sopra la prossima maglia alta una maglia alta doppia quindi una maglia altissima poi nella prossima maglia lavoriamo una maglia alta nella successiva una mezza maglia alta poi facciamo 3 maglie basse quindi la prima sopra la maglia alta la seconda sopra la catenella la terza sopra la prossima maglia alta e adesso andiamo di nuovo a crescere quindi una mezza maglia alta nella prossima maglia alta una maglia alta in quella successiva e sopra i prossimi 3 punti andiamo a fare 3 maglie alte doppie quindi 3 maglie altissime poi andiamo di nuovo a diminuire quindi adesso in pratica si ripete quindi vi faccio vedere ancora una ripetizione insieme quindi una maglia alta una mezza maglia alta una mezza maglia alta tre maglie basse una, due, tre e poi una mezza maglia alta una maglia alta una maglia alta una maglia alta e poi tre maglie alte doppie uno due e tre e ripetete fino alla fine della riga alla fine della riga quindi mettiamo che qua abbiamo fatto sapete le tre maglie basse vanno lavorate nella maglia alta prima della catenella e nella maglia alta sopra la catenella e poi nella maglia alta successiva alla catenella quindi qua avremo fatto le tre maglie basse e poi ovviamente terminiamo con una mezza maglia alta una maglia alta e poi una maglia alta doppia e sopra le tre catenelle lavorate un'altra maglia alta doppia e così concludete questo giro di appareggiamento vi verrà una linea diritta vedete dopodiché dovete fare 15 righe a maglie alte una maglia alta sopra ogni maglia ovviamente ovviamente se volete fare la maglia più lunga potete fare anche 16 17 20 righe a maglia alta questo è a voi ci vediamo quando ho completato anche questo pannello quindi adesso lavoro questa riga di appareggiamento e poi le mie 15 righe di maglie alte e dopo vi faccio vedere come cucire insieme il davanti e il dietro adesso è arrivato il momento di unire il davanti e il dietro e di andare a cucirli insieme allora per fissare i primi marca punti mettete il primo pannello con il diritto appoggiato verso il tavolo e quindi il rovescio rivolto verso di voi e il secondo pannello esattamente al contrario quindi il diritto affacciato verso di voi e li sovrapponete ovviamente fate combaciare la parte con le maglie alte con la parte delle maglie alte dell'altro pannello li sovrapponete e poi prendete dei marca punti ecco e fissate il punto nel quale volete fare finire la parte chiusa e dove deve iniziare la manica io adesso vado a occhio però una volta che avrò deciso dove metterli vado a misurare indossando la maglia sul mio corpo poi vado a vedere se l'altezza della manica va bene per me così allora quindi fissate da un lato fissate da un altro lato ovviamente io qua adesso vado molto velocemente dovete fare combaciare bene le righe quindi prendete le righe le fate combaciare ok e poi fate ovviamente la stessa distanza da entrambi i lati e adesso solo per farvi vedere nel video vado un po' veloce adesso una volta fatto registrerò cioè faccio prendo i punti come mi viene comodo poi andremo a cucire ovviamente anche l'apertura del collo quindi anche qua metterete due marca punti dove volete che finisce l'apertura del collo e ovviamente dovete andare a contare le maglie in modo che su questa spalla avete lo stesso numero di maglie come anche qui una volta che avete trovato i vostri punti di riferimento andate a girare con prudenza il lavoro sul rovescio praticamente così possiamo fare la nostra cucitura o come nel caso che ho scelto io vado a unire i laterali e il sopra a maglie bassissime a questo punto se volete potete fermarvi e usare questo maglioncino così come è con la scolatura a barca io invece voglio aggiungere un collo alto e quindi vi faccio vedere come si fa allora per fare il collo alto andiamo a riprendere il motivo a maglie alte e dovete trovare il punto centrale del del dietro o del davanti ovviamente adesso i lati sono uguali quindi una volta che decidete ok questo deve essere il mio dietro del maioncino prendete il punto laterale centrale che nel mio caso sono 23 maglie quindi io dopo i 23 maglie ho qua il mio punto centrale entro dentro la maglia e vado ad agganciarmi con il filo con una maglia bassissima e poi vado a fare 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta e adesso lavoro una maglia alta in ogni punto tutto attorno quindi una maglia alta in ogni punto e vado tutto attorno ovviamente qua nel punto di cucitura devo regolarmi caso mai faccio una maglia alta proprio nel passaggio e poi continuo a lavorare su questo lato vado fino a qui anche qua presto attenzione alla maglia di passaggio quindi magari aggiungete una maglia alta extra e tornate a lavorare a maglia alta fino a qui una volta raggiunto l'ultimo punto ovviamente avrete lavorato una maglia alta e poi fate una maglia bassissima nella terza scusate una maglia bassissima nella terza catenella girerete il lavoro e lavorate la prossima riga quindi tre catenelle e poi una maglia alta sopra ogni maia alta fino a quando il collo avrà raggiunto la lunghezza desiderata adesso non vi faccio vedere la registrazione perché è talmente semplice che credo che avrete capito un giro a maglia alte a fine giro vi chiudete con una maglia bassissima e poi lavorate una riga di ritorno quindi tre catenelle e lavorate una riga di ritorno a maglia alta e così via fino a quando avete raggiunto le righe necessarie per il vostro collo ed ecco il collo alto finito questa è la parte del rovescio quindi qua vedrete il cambio delle righe e qua abbiamo il davanti ho fatto 16 righe per il collo alto voi potete ovviamente farne ancora di più se vi piace un po' più alto ma a me piace così e quindi adesso ricordatevi di cucire tutti i fili e la vostra maglietta è già pronta cioè il vostro maglioncino senza maniche ho usato poco più di due gommitoli per realizzarlo in una taglia M spero che questo tutorial vi sia stato utile che vi sia piaciuto fatemi sapere tutto nei commenti le vostre domande iscrivetevi ai miei gruppi facebook e vi aspetto al prossimo tutorial mettete un mi piace a questo video e condividetelo con i vostri amici uncinettosi ciao e a presto